si ricorda il pubblico presente nel settore ospiti per motivi di odio pubblico a termine della gara dovranno attendere all'interno del proprio settore fino a quando gli student non ha l'autorizzazione all'uscita il pubblico presente nel settore il pubblico presente nel flaccio all'ora 14 e 30 vieni a sostenere le nostre attrette giallo-blu a lo stadio il mezzo di l'onceto nella sfida contro San Marino Academy ingresso gratuito, buona Cale! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.